Ciao amici di Fidebec Bianconero, il giorno dopo Napoli-Juventus 5-1. Adesso a caldo, o quasi a caldo, non mi vengono in mente sconfitti, almeno recenti, così scottanti, dico la verità. Magari mi sta sfuggendo qualcosa, però al di là del risultato e anche la sensazione che ha dato la partita, che resta, una brutta sensazione perché avevo l'impressione di poter subire ancora più gol, quindi una debacle ancora più clamorosa. Dobbiamo tornare al 1990, 5-1 Napoli-Juventus, Juventus allenata da Maefredi all'epoca, e questo è il picco, purtroppo negativo, di questa stagione o di questo nuovo percorso che avremmo dovuto iniziare un anno e mezzo fa, avremmo dovuto iniziare, ma non credo che sia iniziato, se è iniziato ha preso una direzione molto molto negativa. Dovrei stare qui adesso a ripetere cose che chi ci segue sa, diciamo da tanto tempo, sulla pagina Feedback Bianconero, c'era stata, a mio avviso, e a questo punto non devo dire più a mio avviso, ma devo dire effettivamente un'esaltazione erronea da parte di molti per otto risultati, otto vittorie consecutive della Juventus in campionato, con otto cliched, quindi porta inviolata, a volte per merito, a volte anche per qualche episodio che, insomma, è girato dal verso giusto per la Juventus, vedasi il palo di Lecce, vedasi l'Inter, dove la Juve ha meritato, soprattutto in un bel secondo tempo, ma comunque un primo tempo, dove l'Inter avrebbe potuto fare anche più di un gol, con la Cremonese, insomma, non è stata una partita convincente da parte della Juve, la Cremonese ha preso due pali, creato altre occasioni, eccetera, anche con l'Udinese, l'Udinese non è stata particolarmente pericolosa, ma aveva comunque dato una sensazione di avere, non dico il controllo della gara, ma comunque la Juventus non era, ecco, come purtroppo non è quasi mai, da un anno e mezzo, padrona del campo, e allora io vorrei uscire un po' dal discorso dell'analisi di Napoli-Juve, che magari affronteremo lunedì con calma, per abbracciare un discorso, fare un discorso più ampio. Chiaramente io ho manifestato più volte quella che è la mia idea sulla guida tecnica, sulla mentalità più che altro che deve infondere tendenzialmente la guida tecnica di una squadra. È chiaro che qui le responsabilità, come sempre, vanno divise dalla società, allenatore e giocatori, così come meriti, perché a me sembra che nelle ultime otto giornate non dimentichiamo intervallate da partite di Champions negative con tre sconfitti e otto gol subiti, negli ultimi tre, io leggendo sembrava che Allegri fosse arrivato solo da otto giornate alla Juventus e abbiamo recuperato una situazione disastrosa ad ottobre, irrecuperabile, ma scusate, prima chi c'era? Come mai ci trovavamo in quella situazione? Come mai abbiamo vissuto la passata stagione? A gennaio torneranno tutti, inizierà un altro campionato, io avanzavo più di qualche perplessità, è iniziato un nuovo campionato, sono di nuovo tutti a disposizione, e allora questa era la speranza. La speranza è una cosa bella, però quando si fondano, ecco, le proprie convinzioni si basano, ecco, solo sulla speranza, la speranza diventa il braccio destro dello stolto. E allora purtroppo, anche se fa male al cuore, bisogna essere lucidi e critici, a volte, sempre in senso costruttivo, ma anche, diciamo, sollevando qualche critica negativa anche alla propria squadra del cuore, quando è necessario per un bene superiore. Il bene superiore è il futuro, sono le prospettive future, sono i successi futuri. Io non voglio essere troppo lungo in questo video, voglio esprimere però ancora un altro un mio pensiero. Io credo che la Juventus, a prescindere, debba sempre scendere in campo per vincere, per vincere i trofei, non le partitine contro, senza voler offendere nessuno, piccolo-medio squadre di Serie A. La Juventus non deve ringalluzzirsi per trionfi effimeri, per il cortomuso dell'1-0, magari ottenuto per il rotto della cuffia. Non deve essere questa l'ambizione della Juventus. E attenzione, il nostro motto, vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta, è stato travisato, perché l'unica cosa che conta è vincere non le partitine, conta vincere i trofei, ma soprattutto il motto significa la Juventus punta al massimo in ogni competizione. La Juventus, in ogni competizione, scende in campo per vincere, perché il secondo è solo il primo dei perdenti. Questo è il significato. Non arrampicarsi sulle partite, non riuscire a racimolare dei punti per il rotto della cuffia, non arrangiarsi, e dirò di più, io non condivido neanche la filosofia di dover sempre o spesso cercare con un giochino psicologico, no, sei favorito tu, non sono favorito io, noi puntiamo al quarto posto, puntiamo a entrare nelle prime quattro, eccetera. Questa strategia di arrivare a fare i spenti, di abbassare sempre la tensione, eccetera, io non la condivido, dico la verità. Io credo che la Juventus sia una società, sia una squadra che debba andare su ogni terreno d'Europa rispettando qualsiasi avversario, ma affari accesi, rispettando la sua storia, rispettando le sue ambizioni, conscia anche dei propri limiti quando vi sono, ma vi sono sempre dei limiti, ma sempre con la mentalità di vincere e possibilmente, ove possibile, dominare, che non vuol dire andare e lanciarsi alla Garibaldina in ogni partita, ma vuol dire comunque affrontarla con una certa organizzazione, una certa mentalità, con un certo piano tattico e quant'altro. Purtroppo la Juventus, restando anche a questa prima parte di stagione che stiamo vedendo, è una squadra che fondamentalmente aveva trovato una finta, diciamo, compattezza difensiva, perché semplicemente gioca a muraglia umana, gioca molto rintanata indietro, c'è stato magari un maggiore impegno dei giocatori sicuramente, ci sono anche dei meriti, ma non basta, perché poi il pallone viene letteralmente lanciato in avanti, tant'è vero che ogni punto va in difficoltà. Non c'è costruzione dal centrocampo in poi, e quindi è normale che quando affronti squadre più forti, quando affronti, ma questo l'abbiamo detto prima, lo stiamo dicendo adesso, quando affronti anche il Benfica, quando affronti il Napoli, affronti queste squadre, fai brutta figura. Fai brutta figura perché è un calcio che non è proponibile a livelli già medio-alti, figuriamoci a livelli alti. E anche il discorso dei giovani, quando la partita conta, quando insomma arriva il momento clou, i giovani sono scomparsi, non c'è fiducia, non dico che devono giocare tutti, ma magari qualcuno che forse è anche più bravo dei cosiddetti grandi, sì. Sempre i soliti problemi, chiesa che è un esterno offensivo che fa il terzino, confusione tattica, si cerca di arrangiarsi durante la partita, cambiare moduli, quando ormai la situazione è disperata e non si riesce sempre a recuperare. Insomma, si è sempre figli degli episodi, figli degli episodi che possono girare bene laddove l'avversario non è insormontabile, ma è di medio-basso livello. Quando l'avversario diventa di medio-medio-alto, già l'episodio può girare male e puoi perdere. Non è una mentalità, al di là dei risultati, perché poi se guardiamo solo i risultati, secondo me sbagliamo, dobbiamo guardare la mentalità, perché è vincente chi ha una mentalità vincente, chi affronta la vita, chi affronta lo sport in modo vincente, è uno sport che affrontarsi faccia a faccia in modo leale, senza aver paura, anche prendendosi dei rischi, secondo me, ecco, questi avere, secondo me, una mentalità vincente. E io sinceramente non salvo nulla, nulla, dell'ultimo anno e mezzo. Io vedo dei giocatori che stranamente peggiorano, non migliorano. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Prima veniva accusato De Litt, che secondo me è fortissimo, adesso viene accusato Bremer, che è stato il miglior difensore dello scorso campionato, poi è stato accusato Vlaovic in precedenza, magari sarà accusato Chiesa, non so con chi altro ce la vogliamo prendere, o ce la vogliamo prendere con i giovani, non lo so. Così non si costruisce nulla. Io credo che anche la partita di ieri possa fungere da insegnamento, nel senso che comunque il Napoli ha mostrato, avendo delle individualità di spicco sicuramente, ma non tutti, campionissimi, del resto la Juve è la squadra in Italia che ha dato più giocatori ai mondiali, ecco anche con giocatori forti, ma anche medi, si può fare bene, si può fare bene sia dal punto di vista del calcio giocato, del terreno di gioco, al di là dello spettacolo, dell'organizzazione, dell'armonia all'interno di una squadra che si vede, che è trasposta sul terreno di gioco del lavoro settimanale, che poi si vede, si vede sul terreno di gioco. Si possa far bene e si possano anche ottenere dei risultati. Del resto noi nella nostra storia, che che se ne dica, non abbiamo vinto sempre giocando male, con il cortomuso, con gli 1-0 eccetera. Non è vero, non è vero. I risultati spesso sono figli delle prestazioni e allora noi non dobbiamo esaltarci come abbiamo fatto, io no, ma molti sì, purtroppo, io devo dissociarmi perché non l'ho fatto, ma diciamo che ho fatto intendere il concetto, ecco esaltarci nella mediocrità, dobbiamo prendere le distanze a questa mediocrità, scusate, e non cadere nell'errore dopo pochi risultati eventuali utili, di nuovo, di guardare solo il televideo. Dobbiamo capire come, perché, quando, perché arriva un risultato, come si ottiene, in che contesto, contro chi. Se invece vogliamo solo guardare i risultati ottenuti, il palmarès, eccetera, va bene, io prendo le distanze e continuo a tifare, tifo a prescindere, anche se non mi piace questo tipo di mentalità, anche se magari non gradisco un giocatore, un allenatore, un dirigente, non lo so, fate voi, continuo a tifare, però, penso, come altri, di avere il diritto, senza ricevere patenti di tifo, senza ricevere insegnamenti, senza essere giudicato, di dire, io, per me la Juventus è altro, per me la Juventus deve avere un'altra mentalità, io preferisco, per me il calcio è altro, quindi davanti dello sport e del calcio, dico che per me il calcio è altro, per me si deve fare molto di più, si deve rispettare la nostra storia, devono essere rispettate le nostre legittime ambizioni, non è un discorso di vincere o perdere, è un discorso di modo, di cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare, arrangiarsi, arrampicarsi, secondo me può portare a trionfi ingannevoli, chiamiamoli, trionfi no, successi ecco, risultati momentanei, effimeri, ma non è costruttivo per avere solide basi per il futuro, quindi io credo che ci sia poco altro da dire, posso resistere, diciamo così, fino a giugno, poi spero in un cambiamento radicale, ma un cambiamento non perché io voglia insegnare qualcosa, voglia attaccare la guida tecnica, la dirigenza, i giocatori, no, un cambiamento perché io amo la Juventus, e spero che si torni a ragionare da Juventus, e poiché penso legittimamente, ho delle ambizioni in quanto tifoso, anche di vedere un calcio, che sia calcio, un calcio diverso, ecco, un calcio che sia non sempre spettacolare, ma a volte perché no, anche gradevole, perché non disdegno una vittoria ottenuta anche con un merito, e con una prestazione bella, convincente, è inutile nascondersi, epocrisia dire altro, non mi darebbe fastidio assolutamente, quindi auspico di abbracciare una nuova filosofia, non so se accadrà, non so se accadrà, posso solo dire, ribadire quello che ho sempre detto, con l'arrangiarsi, la disorganizzazione, l'improvvisazione, solo comprando giocatori, e lasciando loro il compito di decidere le sorti di una gara, senza cercare di amalgamare i belli da un'organizzazione, e senza soprattutto inculcare una determinata mentalità, dove io Juventus, vengo a Napoli, ti rispetto, sei fortissimo, tutto quello che vuoi, ma sono la Juve e non ho paura, e vengo per dominare, vengo per essere padrone del campo, e per vincere, e allora se non ragioniamo così, ragioniamo in modo diverso, ognuno è legittimamente, può pensarla come vuole, però diciamo non è questa la mia filosofia di affrontare in generale lo sport, spero, spero in una ripresa, non so quando avverrà, resto comunque fermo nel mio ruolo di tifoso, e spero di avere comunque il diritto di manifestare il mio disappunto, per una situazione che onestamente non mi piace, e che credo non porterà a nulla, ripeto, poi non ci attacchiamo ai singoli risultati, perché guardiamo il dito e non guardiamo la luna, non cadiamo nel solito errore, ci sono delle cose che non cambieranno, la mentalità è questa della guida tecnica, il modus operandi è questo, non cambierà, quindi finché sarà questa la guida tecnica, i risultati possono cambiare solo perché saranno magari i giocatori più forti, o si abbasserà ancora il livello del campionato, ma non peraltro, se a qualcuno sta bene, buon per lui, a me non sta bene, semplice, vi abbraccio, aspetto la vostra nei commenti, e seguiteci sulla pagina, non lo dico quasi mai, se vi fa piacere, iscrivetevi, lasciate un like, queste cose social che si fanno, ciao!